Per fare attenzione per tutti, hanno asportato le targhe di una vettura, targa anteriore e posteriore alla zona di Strassevere, probabilmente non stata. 40 e 17, eh? Allora noi da via crescente abbiamo liberato. La targhe di una targa del Principato di Monaco, i Vieti Gracchi 183, e all'osservi una delle parti, già si era sondanato, non sono interessati. L'ambulanza sta arrivando, eh? L'ambulanza sta arrivando, volante 52. Mi ascolto. Se arrivate in piazzale, vedevamo a scuola di tutti. Sì. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.